SABOLDI E BALTI SONSANO, un altro equipaggio giovane Allora? Diversamente giovane Tutto bene, ieri già nelle prove mi sono divertito molto Essendo il primo rally poi Esordio assoluto? Sì, ho fatto due gare da navigatore con mio fratello, adesso guido però Mi piace, è bellissimo Adrenalina mille Poi essendo il primo rally ancora il più Poi con l'asino vicino Con l'asino vicino E tutta un'altra cosa Sì, sì, sì Decisamente Va bene ragazzi, in bocca al lupo Divertitevi e so che lo farete Savoldi e Valzano Numero 159 Fabio Beltrame, Marco Vanelli Peugeot 106 Della Medico Corse Quindi, allora? Eh quindi Si comincia Si comincia Prendiamolo come viene Il tempo è quello che è Ma adesso c'è un sole bellissimo Speriamo che tenga Fino domani Fino domani Anche fino a stasera Chi se ne frega Dalle 8 in poi Secondo me può fare quello che vuole Speriamo 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 Here we go. Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.